L'Empatia corrisponde sostanzialmente al nostro bisogno di comunicazione e di condivisione. Viviamo in un'epoca di crisi economiche, di catastrofi naturali, di lacerazione dei rapporti, delle relazioni sociali, di violenze commesse in seguito all'odio e al fanatismo. E quindi il richiamo dell'Empatia ci serve per aiutare gli altri, per occuparci, almeno non essere indifferenti alla miseria e alle privazioni di vaste popolazioni del nostro pianeta. Però per aiutare gli altri è necessario non considerarli soltanto delle vittime passive. Qualche volta noi pensiamo che abbiano solo bisogno di un aiuto materiale. Si tratta invece di sapere che sono uomini, donne, che hanno una storia, un progetto di vita, dei desideri. Ed è proprio qui che dobbiamo chiederci ma perché per amare gli altri dobbiamo vederli soffrire? Ho già parlato di indifferenza. Spesso pur vedendo un altro che soffre voltiamo la testa dall'altra parte. Ora l'Empatia è proprio la capacità che ci permette di entrare direttamente in contatto. Anche semplicemente guardando una persona in faccia, cioè vedendo per esempio che ha una smorfia un po' cupa delle labbra oppure agli occhi un pochino tristi. Ecco l'Empatia ci mette in contatto diretto con le persone a partire proprio da gesti. Non ci vogliono spesso nemmeno le parole per capire che un'altra persona ha qualche problema. Anche certamente che ce l'ha con noi per esempio. o ha bisogno di qualcosa d'altro. Si tratta di una capacità, e questo bisogna saperlo, ripetercelo, molto spesso, di cui tutti siamo dotati. Delle Empatia infatti oggi conosciamo molto a livello scientifico. Conosciamo la sua storia nell'evoluzione della specie. È stata fondamentale per la cooperazione e per l'associazione anche per la cura dei piccoli e dei deboli. Sappiamo anche molto dei circuiti cerebrali associati all'Empatia. Però non basta pensare che l'Empatia sia un istinto o si inneschi con una scarica di neuroni. Perché se fosse così non potremmo spiegarci come mai la paura dell'altro è un aspetto fondamentale. Non solo della nostra società ma anche della nostra vita. Paura qualche volta persino di innamorarci perché abbiamo paura di essere traditi, di essere abbandonati. Oltretutto poi pensiamo come sia difficile oggi comunicare tra vecchi, giovani, tra uomini e donne. Anche questa è una storia purtroppo nefasta, soprattutto negli ultimi tempi, tra ricchi e poveri, tra nord e sud, tra gente che abita in città e gente che abita in campagna. Il mondo in cui noi viviamo quindi fa dell'Empatia quella che io chiamo un wake up call, cioè un avvertimento, che può essere anche forte, violento, a investire le nostre energie nel rischio, nella difficoltà molto spesso della scoperta dell'altro. L'Empatia deve diventare per noi una sveglia, perché proprio in questo modo io credo diventerà un turning point fondamentale per il futuro di questo mondo che attraversa crisi profonde. E non penso soltanto all'economia, ovviamente, alla finanza, ma penso anche all'ambiente. Cioè solo questo turning point per cui ognuno di noi mette qualcosa di sé, incontrando l'altro, facendo, diciamo, affrontando l'esperienza delle relazioni, solo in questo modo forse fermeremo una deriva catastrofica. Scoprire l'altro è la quintessenza dell'Empatia può sembrare una cosa piuttosto semplice. Invece, se pensiamo alla società digitale, ai mezzi di comunicazione, al web, ma anche al mondo globalizzato, scoprire l'altro non è così semplice. Nel senso che proprio i dispositivi digitali, ma anche i voli aerei che ci permettono velocemente di andare da un'altra parte del pianeta, ci mettono a contatto con altri distanti, di cui spesso non conosciamo la lingua, non conosciamo la cultura, non sappiamo niente delle loro credenze o della loro fede. Proprio perché queste nuove forme di socialità in cui tutti siamo immersi ci mettono a contatto con altri senza nome, spesso gruppi, popolazioni, appunto, vittime per esempio di catastrofi naturali o di queste grandi migrazioni, d'altra parte altri che stanno con noi, abitano il mondo con noi, sono parti, attori della nostra stessa scena, proprio per questo noi spesso ci fermiamo a simpatie immediate oppure anche a repulsione o avversioni immediate. Faccio degli esempi che sono noti a tutti, cioè perché noi ci emozioniamo per la foto di un bimbo, per esempio, quella famosa foto diventata virale del bambino tirato fuori dalle macerie di Aleppo. E poi, per esempio, noi italiani, quando andiamo benissimo d'accordo con un immigrato che lavora in un mercato oppure al bar, eppure nel piazzale della stazione centrale ci irritiamo perché diciamo ma guardate tutti questi presunti rifugiati che non fanno niente tutto il giorno. Questa è veramente una bella contraddizione, ma ci dice soprattutto la fatica e la difficoltà di fare i conti con la differenza dell'altro, che sia un giovane, che sia un immigrato, che sia un anziano, appunto, che sia uno straniero. La prima lezione dell'empatia, da questo punto di vista, sta proprio nel prestare ascolto, senza buttarci giù e dire vabbè io sono egoista e quindi non mi interesso. No, dobbiamo prestare ascolto a queste nostre risposte spontanee, a queste nostre immediate avversioni. Siamo anche noi, come si dice volgarmente, abbiamo i nostri problemi. Ma prestare ascolto e prenderle sul serio vuol dire accettare che le nostre attrazioni, le nostre simpatie, le nostre antipatie possano anche dare vita a qualcosa di diverso e quindi possano anche portarci a riconoscere il valore di quelli che abitano il mondo insieme a noi, che, come noi, hanno delle emozioni, hanno dei pensieri, hanno dei desideri. La scienza sta lavorando molto su questo e, per esempio, e questo secondo me è un risultato interessante, ci dice che non esistono le persone naturalmente empatiche. un luogo comune che le donne sono più empatiche degli uomini. Gli esperimenti neuroscienze hanno abbastanza relativizzato questo tipo di luogo comune, il che vuole anche dire che non esistono le persone, gli uomini, freddi calcolatori egoisti, geneticamente o naturalmente anti-empatici. E tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'empatia è una capacità sicuramente cablata nel cervello, ma è una capacità che dobbiamo anche scegliere di coltivare. E quindi, oltretutto, poi, sapendo che è molto delicata e molto fragile, altri studi, altrettanto interessanti, quelli che ho appena citato, ci dicono che, per esempio, è più facile essere empatici con i nostri familiari, con chi appartiene al nostro gruppo, al nostro ambiente, piuttosto che con quelli che parlano un'altra lingua o di cui conosciamo ben poco. Così pure si fa più fatica a essere empatici quando si è stressati, oppure quando si è depressi. Cito questo tipo di conoscenza, proprio per dire come bisogna essere molto realisti, ma realisti anche nei confronti di noi stessi. Cioè essere empatici non vuol dire essere buoni e basta, e quindi non essere cattivi. Tutti noi viviamo, a seconda, appunto, delle circostanze di vita, delle fasi della vita, se siamo più giovani, se siamo più adulti, se abbiamo altro tipo di problemi, viviamo dei momenti in cui l'empatia può abbassarsi, può essere anche un po' limitata, un po' scarsa, ma tutto questo non toglie che l'esperienza empatica possa essere rinnovata e ripresa. Con questo cosa voglio dire? In fondo, la vita è una grande scuola di empatia. È vero che noi entriamo in contatto con gli altri in maniera estremamente entusiasmante nell'amore e nell'amicizia. E siamo coinvolti con le nostre emozioni, ma anche proprio con la nostra sensibilità, con le sensazioni. Eppure, ricordiamoci che basta conversare con un amico o con un'amica uscendo da un cinema, basta aprire la finestra e guardare fuori, guardare per esempio un vecchietto un po' malandato che cammina a fatica perché le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Quindi questa possibilità di aprirci alle storie degli altri, all'esistenza degli altri, anche solo per pochi secondi, è una possibilità alla portata di tutti. In questo senso, dicevo, la vita è scuola di empatia. Viaggiare ci insegna a empatizzare, imparare le lingue straniere per capire quelli che parlano una lingua diversa dalla nostra, conversare, il piacere, qualche volta anche la noia della conversazione è molto importante, proprio per vivere questa e sviluppare questa formidabile capacità umana che è piena di potenzialità. In un mondo globale, in fondo, noi dobbiamo reimparare ogni giorno a stare insieme agli altri, tra uomini e donne, tra genitori e figli, tra studenti e insegnanti, tra colleghi di lavoro. Ora, questo, diciamo, riapprendimento che contrasta, è vero, con la velocità, con i problemi delle nostre vite quotidiane, è però decisivo per rendere il mondo più umano e per, soprattutto, apprezzare l'umanità di quelli che abitano la terra allo stesso modo in cui l'abitiamo noi. Con questo io vi vorrei lanciare il messaggio che l'empatia, ripeto, una capacità di cui tutti e tutte siamo dotati, è creativa e generosa, soprattutto ci porta a guardare in avanti. e questo è tanto più importante in un mondo che ha paura oggi del futuro. Greta, no, che dice voi adulti ci rubate il futuro. Questa è un'accusa pesantissima per noi adulti. L'empatia ci aiuta, anche noi adulti, non solo i giovani, a guardare in avanti, a rischiare, ad accettare la fatica, anche i conflitti di interessi, anche di valori, di forme di vita che sicuramente ci sono quando entriamo in relazione con gli altri, perché in questo modo noi, in fondo, arricchiamo la nostra vita e le nostre esperienze. E adesso concludo chiedendovi una cosa. Cioè fate solo un gesto. Voltatevi verso il vostro vicino e guardatelo dritto, in faccia. Poi fate un respiro profondo e come se vi sentiste liberati da un peso, sorridete. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.